Buongiorno, in questa video-lezione introduciamo il personaggio di Ariosto, lo scrittore, e vedremo alcune cose sulle sue opere minori, e poi ci concentriamo invece sull'Orlando Furioso, che è l'opera più interessante, di cui leggeremo direttamente vari testi durante le lezioni subiti in diretta. E appunto così come già Boiardo prima di lui, anche Ariosto lega il suo nome e la sua carriera alla cortestense, quella di Ferrara, una delle corti più importanti dell'epoca, nasce nel 1474, di una famiglia di origine importante, dall'inizio del 500-1503 si lega come funzionario al Cardinale Ippolito d'Este, uno degli ecclesiastici più importanti dell'epoca, che gli affiderà anche diversi incarichi pratici, quindi ambasciate, incarichi diplomatici. Ariosto sarà sempre un po' infastidito da questi incarichi, che riteneva un po' alieni dal suo essere intellettuale, quindi lui preferiva l'ozium letterario, inteso come i latini, quindi indicarsi esclusivamente alla cultura, ma avrà sempre di questi incarichi. Svolge il suo lavoro anche come ambasciatore presso la corte del Papa di Roma, forse avrebbe vagheggiato di trasferirsi da Ferrara a Roma, ma il progetto poi si interrompe. C'è anche una forte rottura col Cardinale Ippolito, perché nel 1517 si rifiuta di seguirlo in Ungheria. Probabilmente il motivo principale è che avrebbe dovuto abbandonare la sua amata, Alessandra Belucci, questa donna che aveva conosciuto qualche anno prima e a cui rimarrà legato per tutta la vita, addirittura poi si sposeranno in segreto. Alessandra era già sposata, quindi era ufficialmente inarrivabile con un matrimonio, ma anche lo stesso Ariosto aveva preso gli ordini minori, era un chierico, quindi un po' come Petrarca e Boccaccio, era stato costretto a questa scelta per avere una rendita, quindi una specie di piccolo stipendio. Avrà anche due figli, però nonostante il suo incarico di chierico e ovviamente questa relazione con Alessandra viene tenuta segreta. Anche il matrimonio, dopo che lei rimane vedova, sarà tenuto segreto. E appunto nel 1517 il rifiuto di seguire in Ungheria il Cardinale implica poi una rottura e si avvicina a un altro personaggio della corte stessa, che è il Duc Alfonso. Anche lui lo manderà addirittura, affiderà vari incarichi, addirittura lo manderà a fare il governatore in Garfagnana, che era una regione appenninica di confine del Ducato Estense. Ariosto la descrive come un luogo selvaggio in ospitale, abitato da personaggi inquietanti, anche se poi di fatto si dimostra un governatore anche abile, e quindi efficiente nelle cose concrete, in grado di mostrare sia forza ma anche equilibrio. Tra le sue opere, quindi quelle minori, ci sono varie liriche sia in latino che in volgare. Comunque Ariosto è anche lui un umanista, sostanzialmente ha una formazione umanistica, quindi conosce bene la cultura classica. Poesie soprattutto d'amore, ispirate un po' agli amorum libri di Boiardo. interesse anche per il teatro, è uno dei primi che riprende il teatro di stampo classico, quindi alla Plauto, addirittura alcune opere sono delle riprese chiare, Plautine, anche ad esempio il tema del doppio, dello scambio di persona, nei suppositi. È interessante che sperimenta sia commedie in prosa che in versi, alcune le scrive in prosa, poi le scrive in versi. Comunque è uno dei primi appunto che riprende nel Cinquecento il teatro classico, le opere sono l'alena, il negromante, appunto i suppositi, però quello che ci interessa è un po' la ripresa di questo impianto teatrale alla Latina, che si era andato un po' perso nelle origini della letteratura volgare. Vedremo come con Macchiavelli, che è un autore sostanzialmente contemporaneo, il teatro rilascimentale avrà il suo apice con la mandragola. Ci sono poi tutta una serie di lettere, circa 200, non sono lettere fittizie alla Petrarca, sono lettere vere e proprie che Ariosso scrive ai familiari o che riguardano i suoi incarichi, che ci danno un po' uno spaccato sulla sua personalità. Infine, l'ultima opera, anche qua di stampo autobiografico, sono Le Satire. È un'opera che, appunto, Le Satire riprende il modello di Orazio, però Orazio, Le Satire, era un genere con cui lui, intanto criticava un po' la società della sua epoca, però parlava anche di se stesso, quindi ce n'è, ad esempio, una che descrive un viaggio con Mecenate. La stessa cosa avviene un po' per Ariosto. Quindi sono testi intanto privati, non li pubblica, saranno pubblicati solo dopo la sua morte, postumi da un familiare, e ci offre sostanzialmente una giustificazione delle sue scelte di vita. Ad esempio, nella prima si giustifica del fatto di non aver seguito il cardinale Ippolito in Ungheria. Ce n'è un'altra in cui parla dei problemi in Garfagnana. Un'altra in cui critica la corte di Roma, che, appunto, il suo giudizio era, insomma, negativa. Un'altra, vabbè, parla dei problemi della vita matrimoniale. Ce n'è una poi indirizzata al Bembo, perché sono tutte indirizzate a un destinatario che è un conoscente o un familiare. In quella al Bembo discute del problema dell'educazione dei figli, perché aveva conosciuto direttamente Bembo, come vedremo anche nella discussione sull'Orlando Furioso. In un'altra, insomma, il rifiuto di andare a Roma come ambasciatore. Quindi sono anche dal taglio fortemente autobiografico. A volte la discussione è anche un po' spinosa su alcuni problemi, diciamo, personaggi contemporanei, e quindi non vengono pubblicate. Anche per evitare problemi. Ma veniamo adesso, quindi, all'opera principale, che è l'Orlando Furioso.